Buonasera dai tornei SK, ottavo di finale tra Real Partenope contro Estudiantes, gara importantissima visto che le due squadre si giocano all'accesso ai quarti di finale albitra ancora una volta il mitico Tonino, ormai perno portante dei tornei SK alla mia sinistra il Real Partenope classificato come miglior sesta del torneo mentre alla mia destra l'Estudiantes classificato terzo nel proprio girone quindi disputato un buon campionato e con le due squadre passare e salutarsi come è solito fare andremo ora a vedere il tocco per la palla e il campo sono i capitani delle squadre, la mia sinistra è Studiantes e la mia destra è Partenope dopo la scelta per il campo e la palla si può incominciare via le danze inizio primo tempo tra Real Partenope contro l'Estudiantes, risultato ancora sullo 0-0 scusate ricordiamo che la partita è valida per i quarti di finale del torneo Summer Cup partita molto interessante, ora andremo a seguire tutto il primo tempo andremo a seguire tutto il nostro tempo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.